Eder, Mech, Pallister. Quali sono i tuoi hobby? Musica e lavoro su delle app. Fai qualche sport? Pratico calcio, basket, skate, tiro con l'arco, tiro al coltello. È difficile tirare con il coltello perché devi guardare quante volte gira. E passavi molto tempo a fare il tiro del coltello? Appena facevo centro smettevo. Ma la sera dell'omicidio come mai sei uscito con un coltello? Volevi forse allenarti? Perché era come se dovessi fare qualcosa. Ho seguito quell'onda senza sapere dove stavo andando. Sapevo che qualcosa sarebbe successo. Volevo intimidire i due ragazzini per vedere come reagivano ma loro non hanno fatto nulla. Ho sventolato il coltello e sono passati dritto. Ho trovato una strada che tagliava i campi e mi sono ritrovato a Terno. Ho poi trovato un ragazzo abbastanza grosso a bordo di un'auto a Audi o Mercedes. Avrei potuto rubargli il computer ma non ho fatto niente. Probabilmente per il track. Ho incontrato altre due persone sul muletto di un parchetto e le ho salutate. Poi ho incontrato un tipo che fumava una sigaretta e non gli ho fatto niente. Poi ho incontrato un altro con un borsellino su un SUV. L'ho salutato e ho proseguito. Ho visto poi una statua che raffigurava un uomo seduto e ho fatto il gesto di sgozzarlo. Ho incrociato la ragazza prima da davanti. Non aveva la borsa, avrei detto che avesse capelli biondi. Indossava i jeans e aveva le cuffiette. L'ho seguita da dietro, le ho messo una mano sulla spalla e le ho detto scusa per quello che sta per accadere. Lei ha tolto le cuffiette quando si è sentita toccare. Ho preso il coltello e la prima coltellata l'ho data al petto, ma il coltello è rimbalzato. Lei cominciava a scappare, sono sceso dalla bici, l'ho rincorsa e l'ho colpita più volte, tre o quattro. A quel punto la ragazza urlava e chiedeva perché ho ripreso la bici e velocemente mi sono allontanato. Dopodiché hai buttato i coltelli che avevi in tasca, tranne proprio quello usato per il delitto. Ho pensato che magari avrei potuto controllare se il coltello e la collana che ho seppellito dentro un calzino, in una buca, nei pressi dell'Adda erano ancora lì. Volevo tenerli lì come un ricordo, per memoria di quello che avevo fatto. Ti diverti in carcere? Sono nel Cile. L'omicidio di Sharon Verzeni ha scosso profondamente la comunità di Terno d'Isola e delle aree circostanti. Nella tragica notte tra il 29 e il 30 luglio, Mussa Sanghere ha commesso un atto di violenza che ha lasciato un segno indelebile. Prima di colpire Sharon Verzeni, Sanghere ha avuto un incontro con due minorenni italiani residenti a Chignolo d'Isola, un comune vicino. Questi due ragazzi, entrambi di 15 anni, sono stati identificati dai carabinieri di Bergamo e uno di loro è già stato ascoltato dagli inquirenti. Il giovane ha fornito un resoconto che combacia con le informazioni raccolte durante le indagini e la confessione dell'assassino. Ha raccontato che Sanghere, mentre incrociava i due ragazzi, ha fatto un commento di apprezzamento sulla maglietta da calcio di uno di loro. Tuttavia, il momento è rapidamente degenerato quando Sanghere, allontanandosi, ha mostrato il coltello, un gesto minaccioso che ha preannunciato la tragedia successiva. L'altro adolescente, che era presente durante l'incontro con Sanghere, sarà interrogato nei giorni successivi per fornire ulteriori dettagli. La descrizione fornita dal primo ragazzo si allinea perfettamente con le caratteristiche e il comportamento di Sanghere, confermando ulteriormente la sua responsabilità nell'accaduto. Musa Sanghere è attualmente detenuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. L'indagine continua a svilupparsi, mentre la comunità cerca di elaborare la perdita e comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. L'omicidio di Sharon Verzeny rimane un doloroso promemoria della fragilità della sicurezza individuale e delle imprevedibili azioni di violenza che possono colpire chiunque, in qualsiasi momento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!